Noi abbiamo bisogno di creare più gruppo, più squadra, più unità, più coesione e lasciar cadere chi lavora fomentando l'altro, accrescendo la paura e l'incertezza, l'insicurezza vendendo probabilmente qualche non verità e la fa passare magari in maniera virale per verità. Noi abbiamo bisogno esattamente di una regione coesa nel momento in cui sta decollando, sta andando oltre, sta andando avanti, si è rialzata e sta riprendendo il suo cammino. Tutti gli indici ce lo dicono. Ora il gusto di demolirla francamente non può appartenere ad una classe dirigente e ad una società che ha fatto della resilienza come Matera, della rigenerazione, il valore aggiunto. Allora uniti tutti quanti insieme verso grandi traguardi come abbiamo già dimostrato di saper fare. Il rilancio della Basilicata a partire da Matera 2019 passa attraverso un processo di forte coesione. Con questo appello all'unità il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, ha preso parte a Matera nel Palazzo della Provincia alla presentazione del progetto di innovazione e integrazione dell'offerta turistica regionale denominato Basilicata Open Space. Alla cerimonia hanno anche preso parte il presidente della provincia di Matera, Francesco De Giacomo, il direttore dell'APT, Mariano Schiavone, l'assessore al turismo della città dei Sassi, Adriana Poli Bortone, i consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Achille Spada. Nel corso dell'incontro è stato siglato l'accordo interistituzionale di collaborazione che darà l'avvio all'iter realizzativo di Basilicata Open Space. Questo complesso variegato, ha detto Pittella, può diventare vivibile con la fruizione dei suoi tanti spazi. Aprire e far diventare il luogo centrale della città di Matera, il lab in cui si socializza, si comunica, si acquisisce sapere e si fa conoscere il tesoro della Basilicata, di tutti e 131 i comuni, con un APT protagonista, con la biblioteca che torna a sorridere non solo ai bambini ma anche agli adulti, credo sia il raggiungimento di un obiettivo molto importante che la regione con la provincia e il comune si era prefissato e che oggettivamente oggi salutiamo attraverso questa conferenza stampa. Basilicata Open Space è un'iniziativa unica che coniuga diversi momenti della promozione territoriale connotati dall'innovatività delle proposte. Previsti spazi espositivi, uffici, laboratori, isole multifunzionali e aree di convivio dove sarà possibile vivere momenti emozionali sul valore della conoscenza, condividere contenuti e creare comunità in rete. L'Open Space sarà un luogo ideale di aggregazione, interazione e conoscenza tra regione, provincia, comuni, Fondazione Matera Basilicata 2019, stakeholder, lucani e i viaggiatori che vivono e attraversano la Basilicata. Questi, nella città dei Sassi, avranno l'opportunità di scoprire l'anima e lo spirito del contesto che li accoglie.